. Grande fratello Vip, Daniele Bossari, perché ha lasciato la casa . Daniele Bossari preoccupa i fan, labbandono del GF Vip. Si è soliti dire che prima della tempesta cai la calma, questo detto popolare può valere per le persone comuni, ma non per il grande fratello Vip. Tra qualche ora, in diretta dagli studi di Roma, Ilari Blasi condurrà il sesto appuntamento del programma di successo di Canale 5. Durante questa diretta, la conduttrice comunicherà a Gianluca Impastato di dover abbandonare la casa e introdurrà al gioco tre nuovi concorrenti. . I partecipanti del programma non sanno cosa gli aspetta, ma immaginano si tratti di una serata abbastanza difficile, difficile come quella di stanotte. . Daniele Bossari, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del grande fratello Vip, ha abbandonato la casa più spiata del piccolo schermo. . A comunicare la notizia ci ha pensato lo staff social del reality, motivando luscita temporanea come dovuta a gravi problemi personali. . Il noto conduttore televisivo ha abbandonato il gioco alle ore 23 e 15, davvero poco tempo fa. Al momento non siamo in grado di comunicarvi se Daniele Bossari riuscirà a rientrare in casa giusto in tempo per la nuova diretta del programma. . Sicuramente labbandono improvviso del conduttore sarà uno degli argomenti che la moglie dell'ex capitano della Roma tratterà in puntata. . Grande fratello Vip, Daniele Bossari dice addio al programma?. . Negli scorsi giorni, Daniele Bossari è stato difeso da Filippa Lagerbac per ciò che è successo all'interno del GF Vip quando la produzione ha chiesto ai concorrenti di stilare una classifica degli uomini più belli e interessanti presenti all'interno della casa più spiata d'Italia. . Sicuramente la posizione assegnata al noto conduttore non ha influito sulla sua scelta di lasciare, momentaneamente, il programma. . La motivazione di tale uscita non è ancora stata comunicata nel dettaglio al pubblico da casa, che è stato informato poco fa attraverso un breve messaggio sul social. . . Sulla vicenda in questione si sa davvero poco. . Daniele Bossari, da molti definito come il vincitore di questa seconda edizione del GF Vip, ha abbandonato la casa soltanto qualche ora fa, ma la notizia si è estesa a macchia d'olio, tanto da preoccupare i fan. . Sicuramente, non appena Ilari Blasi darà il via al sesto appuntamento del reality, sarà spiegata ogni cosa, chiarendo i mille dubbi che albergano nella mente dei telespettatori di Canale 5. . Cosa sarà mai successo di tanto grave da far chiedere a Daniele di uscire, momentaneamente, dal gioco? Sul web molti fan della trasmissione ipotizzino si tratti un lutto in famiglia. . Noi speriamo non sia così. . .